E' stato arrestato alla stazione di Bologna con l'accusa di aver ucciso a coltellate l'ex moglie Anastasia Laschiri, 23 anni, fuggita nel marzo scorso dalla guerra in Ucraina. La scomparsa della giovane era stata denunciata da un amico ieri mattina. Dopo l'allarme era scattata una vasta operazione interforze con ricerche proseguite fino all'alba. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari del CB Club Mattei hanno setacciato la zona dell'aeroporto dell'Arzile del Canale Albani e sono state visionate le immagini registrate dalle telecamere della città. Poi, il tragico epilogo, la ragazza, mamma di un bambino di due anni, è stata trovata morta in un campo in località Belgatto con i segni di più coltellate inferte in varie parti del corpo. Il presunto autore, l'ex marito egiziano, è stato bloccato alla stazione ferroviare di Bologna e poi arrestato con l'accusa di omicidio. Da quell'uomo, Anastasia, aveva manifestato la volontà di separarsi. La situazione era andata deteriorandosi sempre più fino allo scorso 11 novembre quando la ragazza aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri e denunciare le vessazioni a cui suo marito da tempo la sottoponeva. Lei aveva addirittura deciso di abbandonare l'abitazione e di rifugiarsi da un amico e collega di lavoro. Ieri mattina, poi, la 23enne era tornata a casa sua per prelevare gli effetti personali. Qui aveva incontrato l'ex convivente con cui si sarebbe innescato l'ennesimo diverbio. Da quel momento si sono perse le tracce della ragazza, al punto che il suo amico preoccupato ha deciso di denunciare l'accaduto. Sin da subito sono state avviate le attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica che hanno visto impegnati i militari del nucleo investigativo di Pesero Urbino e della compagnia di Fano che hanno rintracciato l'ex marito a Bologna. L'uomo, che probabilmente stava tentando di allontanarsi dal territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'indagato poi ha deciso di fornire alcuni elementi che hanno consentito intorno alle 4 il ritrovamento del cadavere e di una borsa con indumenti da donna e due armi bianche. Alla luce dei nuovi elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha emesso immediatamente un decreto di fermo per il reato di omicidio e l'uomo è stato portato nella casa circondariale di Bologna a disposizione del giudice. Inoltre sono stati sequestrati l'abitazione dell'indagato, situata in via 3S a Lido di Fano, e il veicolo da lui utilizzato, nel quale sono in corso ulteriori accertamenti di natura scientifica. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità. Sulla pagina Facebook del ristorante fanese in cui lavorava Anastasia, all'osteria della Peppa, questa mattina è stata postata una foto della 23enne accompagnata da parole di cordoglio. Lavorava dallo scorso maggio come cameriera nel nostro locale, si legge nel post. La ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Tra le sue più grandi passioni c'era anche la musica, era infatti diplomata in pianoforte. A confermarcelo la soprano Giovanna Donini, che le aveva impartito lezioni di canto. Anastasia, ci ha raccontato l'insegnante, era una ragazza dolce e carina con una bellissima voce. Voleva ricominciare a cantare. Anastasia aveva trovato a Fano un luogo ideale per incorrere ai propri sogni e coltivare le proprie ambizioni, aggiunto il sindaco Massimo Seri. Mentre progettava con speranze ed entusiasmo il futuro, aggiunto, è rimasta vittima di un'assurda tragedia, quanto accaduto a dell'incredibile e dello spaventoso. Sapere che a Fano si è consumata una tale e inaudita violenza verso una giovane donna mi paralizza e sconvolge e, come me, è segnata un'intera comunità che fa del sostegno e del rispetto reciproco i propri principi. Purtroppo non c'è tregua la lista di femminicidi che stanno investendo i nostri tempi. Segno preoccupante di una civiltà, ha proseguito il primo cittadino, che sta perdendo la rotta dal punto di vista dei valori, come la libertà e il rispetto della persona. La violenza sulle donne è una piaga sociale sulla quale non si può tacere, su cui non si può abbassare la guardia e che va combattuta. Su questi fatti efferati, ha concluso Seri, la giustizia deve essere veloce e severa.